Il protocollo sanitario, stilato dai 20 medici dei club di Serie A, sposato dalla Lega e dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, è stato inviato al governo e adesso è posizionato sulla scrivania del Comitato Tecnico Scientifico. In particolare, i temi più caldi sono quelli del maxiritiro proposto dal capo della Commissione Medica della FIGC e che in realtà le società vorrebbero solo nel caso di nuove positività durante gli allenamenti. Una sorta di quarantena di gruppo in domicilio fiduciario. Ma non è l'unica proposta, al ministro dello sport Spadafora inoltre è stato chiesto che non siano responsabili penalmente i medici dei club, ma che questi vengano visti come vigilanti delle regole. E a proposito dei ritiri, i giocatori dovranno sottoporsi a un tampone ogni quattro giorni e poi ogni due settimane i test sierologici, ma in assenza di positività, potranno fare il ritorno nelle proprie abitazioni. Intanto un po' sorpresa, anche nella giornata di ieri le squadre hanno svolto un allenamento individuale e non di gruppo. Se andrà avanti su questa strada, almeno fino a quando non arriverà una risposta da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Attesa tra oggi e domani.